Mattia Cattaneo, buongiorno! Buongiorno Luigi, buongiorno a tutti! E benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole Dieci minuti di poesia, partitura di pelle con l'opera poetica per l'appunto di Mattia Cattaneo con questa particolare copertina ce la vuole raccontare la copertina di questo libro di poesia? Sì, è un dipinto un dipinto di questa persona che è messa un po' quasi di tre quarti si volge un po' verso qualcosa che sta dietro ma contemporaneamente è proiettata verso qualcosa che sta avanti questo va un po' a significare come nasce partitura di pelle nasce in un periodo difficile come quello della pandemia in un silenzio, soprattutto tra il primo lockdown del 2020 per poi abbracciare anche una parte del 2021 in un momento di maturazione ma anche di gestazione lenta, tratti silenziosa che secondo me ha riguardato un po' tutti e soprattutto è stata una grande conversazione con me stesso questo partitura di pelle dove si unisce appunto il termine pelle che è qualcosa che ci accomuna a tutti a partiture che nel linguaggio musicale e io l'ho voluto in qualche modo un po' riprendere perché ognuno di noi ha dentro di sé una melodia e dentro di noi c'è questa linfa attraverso la partitura che ognuno di noi ha dentro il proprio sé dobbiamo un po' rinascere è bella l'idea, la figura che ci ha regalato Mattia Cattano delle conversazioni con se stesso perché è vero, questo è un dialogo anche molto intimo molto familiare che nasce da sua madre Sì, è proprio così c'è questa centralità della figura materna all'interno di questo testo questo perché mi ha permesso di rianimare un po' quel dolore che avevo e successivamente ritrovare un po' casa al verso che si era un po' un arrito per strada e che attraverso questa conversazione con me stesso io non ho mai abbandonato quindi ho cercato di scavare dentro di me e gettarmi dentro a tentare un po' di scorporare tutte quelle emozioni quei vissuti, quei dolori che mi hanno toccato in quel determinato periodo in quel lutto profondo del 2014 e c'è un grande senso comunque di diversità di concentrazione ho abitato proprio un momento specifico che è quello della parentesi la parentesi di un silenzio dove magari non sono mai stato ma mi sono sentito vivo anche attraverso e soprattutto nel dolore La morte di una madre, la pausa, il distacco, lo stallo però Simoro un'aria immobile quello che scrive tra le altre cose Maria Concetta Giorgi ma la voce di Mattia Catano è una voce molto radiofonica ed è una voce che ha degli appuntamenti fissi in rete dedicati alla poesia ce lo vuole raccontare? Sì, è proprio così perché appunto faccio questa trasmissione evento delle emozioni in onda su PN Radio uno spazio appunto radiofonico dedicato alla poesia dove parlo con altri autori, autrici dei loro libri di come nasce questo amore, questa passione per la poesia quindi cerco di dar voce, di portare voce a queste parole a queste persone quindi attraverso la radio, attraverso anche il social con una circolare poesia che è un altro spazio nella quale io leggo di altri chiacchiero insieme ad altri autori proprio volto alla condivisione poetica E circolare poesia è sicuramente un appuntamento da seguire perché è la poesia che si mette in circolo la poesia che si condivide sono tanti ormai gli autori che sono stati ospitati Sì, sì, sono veramente tanti e stiamo proseguendo in queste iniziative che appunto avvengono in streaming è anche un metodo diciamo piuttosto rapido, immediato per far arrivare la voce appunto di queste persone di questi autori, di queste autrici un po' ovunque quindi è veramente qualcosa che è nato in sordina che pian piano poi diciamo si è allargato e devo dire che sta avendo dei buoni riscontri Seguo la linea indecisa degli alberi dove aerei i piccioni battono le ali tu carezzata dove nascono i capelli ma sotto le dita s'apre la distanza si spezza come paglia il dolce sole Beh, questa è stata una bella sorpresa perché sono sempre belle sorprese le parole di Filippi Chacotet come mai le ha scelte? Perché si parla anche di assenza e di distanza in questo testo dove c'è questa conversazione con me stesso ho trovato anche il andare a ricercarmi sotto appunto come dice Chacotet sotto le dita si apre la distanza una distanza che però non è poi così lontana ma è così vicina soprattutto è vicina al cuore ecco c'è un grande senso di premura qui dentro all'interno di questo testo di laborline anche di serilità a tratti per andare un po' a sottrarre ma anche un po' a approfondire quei momenti ecco perché ho scelto per questa questa bellissima frase in cui si parla di linee indecise degli alberi si parla di carezze è un altro gesto che comunque è presente all'interno del libro perché le mani dentro questo libro sono molto presenti Mattia Cattani si do un grande importanza un grande significato a quelli che sono i gesti la semplicità dei gesti le immagini che si spagliano in modo molto profondo c'è un grande procedere quasi per fotogrammi come se volessi fotografare delle istantanee all'interno di questa piccola raccolta ecco da partitura di pelle che cosa ascoltiamo Mattia Cattani Allora, ascolto questa poesia che dà anche il titolo all'opera Sui precipizi la mia fuga da un deserto senza peso fino alla fine ho visto fiumi stringersi da schegge di pianura cieli alcolizzati che fanno l'amore a sera tirando al molo nuvole asciutte resto affacciato ad un balcone per capire meglio il senso reincarnato dei muri un treno in ritardo da una qualsiasi galleria distratta è lo specchio di fronte al mio cade il silenzio tra partiture di pelle E partitura di pelle quest'ultimo verso diventa anche il titolo di questa raccolta poetica che possiamo trovare dove Mattia Cattani Allora, si può trovare sull'istitore online Amazon quindi principalmente su questi portali o anche da me Certamente questo libro di poesie comincia comincia con queste parole rivendicata nei silenzi e si chiude tra partiture di pelle c'è un legame tra rivendicata nei silenzi e tra partitura di pelle il legame è quello della parola perché la parola si fa sostanza si fa si fa sogno si fa si fa necessità per dare un colore diverso alla parola tristezza perché queste poesie sono anche un superare il momento un momento triste si è proprio così è proprio cercare una luce quindi segue un po' il filone della speranza di questo braccio d'edera di cui parlo quindi un qualcosa verso anche un tramonto magari mancato che vorremmo il cielo abbracciasse ecco tutto questo porta ad un dire ecco ad uno stare e poi ad un dire ben preciso in questo momento bisogna andare oltre cercare quell'oltre che attraverso il silenzio e quella staticità e quel dolore è cresciuto e ingigiantito ora posso dire pian piano di poter diciamo così masticare e non essere ingoiato e lasciare che i sogni ci prendano per la mano esatto e la parola sogno in questa raccolta poetica è una parola anch'essa molto importante che non è un astrarsi dalla realtà perché c'è bisogno di sogno la poesia è anche questo ma la parola sogno torno a dire non è la pillola che ci permette di rifugire dalla realtà queste poesie non fuggono dalla realtà trasmutano la realtà o cercano di trasformare la realtà affacciati davanti affacciati sulle parole di un verso ma in ogni modo non semplicemente fermi ma c'è un'azione continua nelle sue poesie Mattia Cattaneo per andare dove lei poco fa diceva oltre ma qual è questo oltre? è vero perché in quel periodo ho ricercato molto spesso una fuga attraverso la parola attraverso lo sguardo verso questo altrove è un oltre dove poter cercare sempre la pace in un verso dico dopo esserci battezzati con la pace e penso che la ricerca di questa pace che in primi deve essere una pace interiore sia fondamentale ecco riporto questa piccola frase di un grande autore che Gabriele Galloni purtroppo scompasso prematuramente che diceva eppure ricerchi con lo sguardo una fuga ed ecco che anch'io ho fatto questa cosa durante questo periodo di stesura di partitura di pelle ho ricercato con lo sguardo una fuga una fuga verso il sogno che dobbiamo sempre coltivare che è quello di continuare a scrivere perché la parola mi è necessaria grazie per aver ricordato Gabriele Galloni che abbiamo incontrato alcune volte e questo poeta prematuramente scomparso ha necessità di essere conosciuto e soprattutto riconosciuto quale altra poesia sceglie? ecco mi scelgo quest'altra poesia ho lasciato cadere mani nel pane delle mattine spezzato a metà spingevi il giorno e il male lontano ma l'incremenza del tempo avrebbe saccheggiato la tua età nella terra dei morti i sigili del silenzio sono tessere di filigrana ho preso il tuo nome per scrivere questo mio vagabondare e prima di salutarci come sempre quando raccontiamo la poesia chiediamo di fare un piccolo gioco ai nostri ospiti in questo caso a Mattia Cattane o prendere in mano il libro aprirlo a caso vedere che cosa esce sotto lo sguardo e condividerlo con noi quale poesia ha trovato ecco qua vorrei condurti dalle voragini della poesia in un più paese abbandonato ma alba su un borgo che fa piccole le stelle spighe bionde fiammanti chiudo gli occhi giurando di non aprirli in tasca un biglietto per dove vuoi toglierti la tristezza di dosso grazie per avere contribuito a togliere anche attraverso le parole della poesia la tristezza di dosso cercare di dare un altro colore come se ricordo bene viene citato in un'altra poesia un altro colore alla tristezza partiture di pelle il libro che abbiamo raccontato nei nostri dieci minuti di conversazione insieme con Mattia Cattaneo che ringraziamo davvero buona giornata grazie grazie a voi grazie a te Livio